R1 SPA è un gruppo che opera da oltre 20 anni, quasi 25, sul mercato ICT e si è strutturato per dare un servizio completo al mercato sotto vari punti di vista. Il gruppo è composto da R1 SPA, che è la capogruppo, che si occupa della parte di integrazione ai sistemi, quindi quella che si occupa di infrastruttura, di tecnologia, di security, di servizi a valore aggiunto e poi c'è la GW che si occupa della consulenza e sviluppo applicativo, Trice, tutto il mondo di digital marketing, social, mobile, cloud, tutte quelle nuove tendenze di digitale, Eurom, Workplace Management, tutto quello che è intorno alla postazione di lavoro e Property che è la finanziaria del gruppo che serve a supportare il mercato quando ne avesse bisogno. Questa struttura del gruppo serve a supportare la visione di digital partner che questa azienda vorrebbe avere da qui a breve. La parte con HP va avanti da moltissimi anni, ereditiamo quella con Compaq, quindi nella fusione, lo eravamo di entrambe le aziende, è una partnership importantissima e tra le parti più strategiche che abbiamo in azienda abbiamo la certificazione Platinum e soprattutto continuiamo ad investire moltissimo in questa tecnologia, continuiamo a certificare le nostre risorse tecniche e il commerciale, abbiamo moltissime competenze e quello che stiamo vedendo che sul mercato in questo momento la visione di HP è una visione veramente importante. I clienti ci stanno seguendo su tutte quelle che sono le linee di business che stiamo promuovendo. L'acquisizione di Semplivity ci semplifica la vita perché sicuramente va nella direzione che il mercato ci sta indicando e quindi su questo stiamo continuando. A correddo di questa partnership abbiamo realizzato l'innovation lab, il primo del centro sud, è un innovation lab dove stiamo portando i nostri clienti, dove stiamo continuamente cercando di portare al mercato, di far vedere alla domanda, all'offerta direttamente in casa, facendogli testare il comando alle nuove delle loro applicazioni veramente sul campo, facendogli vedere il ritorno che avrebbero immediatamente da questo innovation lab, da questa tecnologia di HP. Stiamo lavorando anche in quest'ambito perché abbiamo una vena che investe moltissimo nel marketing e quindi su questo innovation lab a noi rappresenta una spinta importante all'interno della visione del marketing di questa azienda. E oltretutto consente di fare formazione e training anche interno alle nostre risorse perché toccano con mano la tecnologia. È il primo step perché i successivi sono quelli di ampliarli alle altre sedi dell'azienda che sono a Milano e sono a Perugia. Per quello che vi riguarda la visione del gruppo R1, R1 immagina un mondo dove il digitale sia sempre più dentro nella vita quotidiana, quindi stiamo cercando con la struttura del gruppo, quindi soprattutto con Trice, di cambiare un po' il paradigma di offerta al mercato e quindi di lavorare sul mondo applicativo e trascinare dietro il mondo di tecnologia. In questo HP ci sta seguendo molto perché quello che mette a disposizione consente di raggiungere questo obiettivo. Eventi come questi, eventi aggregativi come questi, ci consentono di vedere altri colleghi che fanno cose magari diverse dalle nostre e quindi a crescere le competenze e soprattutto avere direttamente dal mercato, dalla domanda, in loco la visione della loro stregge di mercato. In questo contesto R1 si sta organizzando appunto per seguire questa visione digitale del mercato con tutte le soluzioni a corredo e sta cercando di chiedere di fare proprio dei POC, delle dimostrazioni ai clienti di quello che è la vision di HP. Su questo stiamo lavorando molto e crediamo che la strada sia quella giusta.